Tra i monti delle Mainarde, soprattutto, ma nell'intera regione, continua a tenere banco la questione del megaprogetto Enel Pizzone 2, che mette a rischio quello che, dal punto di vista turistico, è sorto intorno al lago di Castel San Vincenzo. Un lavoro di anni che, laddove il progetto diventasse realtà, svuoterà, oltre al lago, l'economia di un territorio che va bene al di là di quell'incantevole comune incastonato tra le montagne. È il timore degli abitanti del paese del lago. La più preoccupata, anche in ragione del suo delicato ruolo, il sindaco Marisa Margiotta. In un sabato di fine estate l'abbiamo raggiunta mentre era al lavoro nel suo ufficio del comune. L'abbiamo trovata dispiaciuta per le voci che mettevano in dubbio la efficace reazione sua degli altri amministratori dei comuni dell'area alla notizia del progetto. Ma l'abbiamo trovata anche battagliera, pronta a fare chiarezza e soprattutto a contrastare in ogni modo la compromissione della sua terra. La prima questione riguarda la tempistica con cui il progetto Via PEC è stato recapitato dai promotori al comune. Il progetto Pizzone 2 è arrivato il 6 agosto qui alla nostra PEC. È stato protocollato ma nello stesso tempo noi non avevamo funzionari perché il mio tecnico stava in ferie. Quando ci siamo accorti, quando mi sono accorta che cos'era, l'ho richiamato dalle ferie e subito ci siamo messi al lavoro per poter capire che cos'era. Sono più di 200 pagine scritte per poterle visionare, non è stato semplice. Io ho informato anche altri comuni limitrofi, ho cercato modo di informare anche altri enti. Questa interlocuzione con gli altri amministratori dell'area ha portato ad una risoluzione comune. Insomma, cosa pensate di fare per contrastare questo progetto? La definizione che abbiamo fatto insieme a tutti quanti era quello di dare le osservazioni e aspettare che cosa ci potessero dire sia il Ministero e sia l'Enel. Noi siamo disponibili a che cosa? A rendere, a far rimanere il nostro territorio così com'è. Non vogliamo altro. Nessuna opera compensativa sarà accettata? Compensative non verranno accettate perché a noi sta bene come sta. Nella nostra chiacchierata prima lei rimarcava un'ovvietà. Chi più di un sindaco vuole bene al suo territorio? Io dico ai miei cittadini che il sindaco, come tutta l'amministrazione, ha a cuore quello che è il paese, il territorio, le montagne, di tutti. Io sono nata qui. Non è che vengo da chissà da dove, non lo conosco e non ci tengo. Ci vivo, ci vivo. Potevo andare a vivere in un altro posto? No. Io sono rimasta a vivere nel mio paese con i miei sacrifici. Sono stata votata dai cittadini e perché devo difendere i cittadini e devo difendere il territorio. Ed è questa la mia opera che farò. Un po' più in alto, a 5 chilometri di distanza, anche meno in linea d'aria, c'è l'impianto idroelettrico di Pizzone. L'acqua, pompata dall'invaso di Castel San Vincenzo, arriverà lì. Siamo andati in paese nell'intento di raccogliere le opinioni dei residenti sul progetto In Giro. Poca gente voglia di parlare, ancora meno. Il progetto Pizzone 2, che ne pensa? È favorevole o contraria? Io sono di là. Sono di Castel San Vincenzo, sposata a Pizzone. Beh, sinceramente, se si svuote il lago, la gente non verrà più a fare vacanze a Castel San Vincenzo. E qual è il problema? Se svuote, se riviempie. Altrimenti, se qua l'acqua la tagliamo, quello che gli resta, l'acqua da dove la prendo? Quella è tutta acqua di Pizzone. Insomma, quelle poche opinioni che siamo riusciti a raccogliere qui a Pizzone sono contrastanti. La questione è più complessa di quello che può apparire a prima vista.